io credo siano tre o quattro anni che ci sono queste transenne per questi lavori alla strada che non sono mai stati fatti e francamente mi domando il perché qui è cresciuta l'erba c'è chi viene a buttarci calcinacci e comunque qui siamo in mezzo alla carreggiata ma è che è un pezzettino e qui rimangano questi cartelli fra un po le si fa il compleanno vanno a scuola e niente come potete vedere siamo in mezzo alla strada la strada ovviamente non è una strada ben tenuta ci sono delle belle buche come potete vedere sono anche pericolose ecco la strada comunque di alta percorrenza mi auguro che qualcuno faccia qualcosa più meno ora e siamo sotto lezioni